Con questo tutorial proviamo a risolvere una problematica che molti di voi mi stanno sottoponendo in questi giorni ovvero la possibilità di poter correggere a penna elaborati che vi vengono restituiti dagli studenti in modo semplice gli elaborati spesso e volentieri vengono restituiti in modalità grafica o in modalità PDF se voi scaricate dall'apposito sito web il nuovo Microsoft Edge avrete l'opportunità in maniera piuttosto semplice di poter andare a prendere note direttamente sugli elaborati dei ragazzi ovviamente l'ideale è quello di poter avere un supporto touch per cui un device come un tablet o con comunque schermo touch o in alternativa una tavoletta grafica dopo aver aperto Edge vi è la possibilità di trascinare sopra alla schermata principale un qualsiasi file PDF in questo modo Edge aprirà il vostro PDF sarà possibile quindi con CTRL e la rotellina del mouse poter eseguire zoom e poter quindi avvicinare o allontanare il file PDF stesso quindi prendendo gli strumenti di disegno sarà quindi possibile andare a prendere annotazioni direttamente sul file è possibile andare a cancellare eventuali annotazioni fatte oppure andare a ripristinarle sempre con lo strumento di matita al termine andando a cliccare su salva sarà quindi possibile aggiornare il file per poterlo restituire corretto grazie a tutti